Allora, questa sola devi finire, fai un cazzo, eh, fringastato nero, non fai niente, eh, adesso basta, eh, ho detto fin troppo, adesso basta, eh, adesso basta. Che vai a dire in giro che ci provo con te solo perché sono gay, allora devi stare attenta ad avermi dietro perché non si sa mai cosa potrebbe succedere al tuo buco del cuore. IA. SONO IO CONO PERLANDO DEL BUCO DEL CUORE! E' meglio mettere le mani dietro quando passa quello lì, non si sa mai cosa può succedere, fate attenzione. Ma tu giuro che io non ho mai detto delle cose del genere. Sennò io lo prendo le culo. Così, così, lo prendo anche bene nel buco del culo, così lo prendo io, così, così, così. No, ma ci lo stanno in dubbio, non te l'ho occupato. Non ne posso più di queste battute, non ne posso più. No, ma ti hanno ragione, se sono fatta antico, ora. Mettetevi le mani dietro quando passa quello lì perché è il finocchio. Sì, però io non l'ho mai detto, te lo giuro. No, no, io te l'ho preso nel buco del culo! Sì, sì, no, ma me lo segno proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare. No. Allora, ora mi voglio dire una cosa. Ancora lui. E' meglio che vuoi mettere il buono in capo. Allora, sì, E' ma manifestà, manifestam. Ma se non mi manifestà, non manifestam. Ebbè, fine che ammo parologico. Sì, ma scioperà, scioperam. Ma se non mi scioperà, non scioperam. Sì, ma mobilità, tutto battipaglia, ha mobilità. Ma se non ha mobilità, non ha mobilità. Ma, mamma. E' da capire buono? Ma assolutamente, guarda, anzi, ho fritto un gol. L'uomo con il subwoofer non l'ho mai visto. Stare ore a guardarlo. L'unico brutto dell'amor è la banana, è la banana. Ma Roma Yegis, Godzilla. L'unico brutto dell'amor è la banana dell'amore. Ma, non ti viene da neanche un capillo, un coppio di spalle che un capo. Ma, dove vai? C'è la banana, non ce l'hai? Bella baiana, attacchi da sta banana. Ma è piuttosto, ma attacchi, fila, la DSL, è un picco. Vieni con me. Ti faccio il depile. Per chi non riesce a leggere stu'coso che è molto veloce, alla fine dice soltanto che mi trovate anche su Instagram, con le storie e le cose, insomma. Oppure su YouTube, oppure tutte le sede, dalle 22.45 e poi, su Twitch, a fare le dirette, ok? Quindi, questo è quando. Da boh, al prossimo video, ciao!